Anche i più grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano e non solo hanno dei sogni dal cassetto e spesso sogni che si esaudiscono. È così che Lorenzo Giovanotti Cherubini è particolarmente contento di ritrovarsi a duettare con il riarrangiamento di Fisico Bestiale contenuto all'interno di Fisico e Politico, l'album di Luca Carboni. Un album che è decisamente un tributo ai 30 anni di carriera del cantautore ma che è soprattutto una festa in cui gli amici hanno voluto omaggiare Luca Carboni. E come l'ha voluto omaggiare Giovanotti? Semplice, dando la sua voce in quello che è sicuramente il brano secondo lui più importante, più rappresentativo di una fetta di carriera di Carboni. È proprio con questo brano infatti che Lorenzo è entrato in contatto con lui e da lì è scaturita una delle più belle tornee di sempre, come ha dichiarato lo stesso Lorenzo. Sono impazzito quando è uscito quel singolo e poi quell'album dal momento che la vita è qualcosa di pazzesco e le cose che vibrano di una frequenza simile si attraggono. Successe che tempo o qualche mese io e Carboni eravamo sul palco insieme. In un lunghissimo commento è così che Giovanotti ha presentato a tutti i suoi fan e ai fan di Luca Carboni questo nuovo pezzo decisamente imperdibile, fisico bestiale, che vede protagonista due amici di sempre.